Allora, direi che la sala è abbastanza piena, siamo contenti e possiamo cominciare. Innanzitutto, benvenuti a tutti, è veramente un grande piacere avervi qui in presenza, potersi guardare senza le mascherine, tornare a quella vita normale che tanto ci è mancata in questi ultimi tre anni. Come sapete, questo incontro è dedicato alla crisi climatica e alle strategie di adattamento per un mondo migliore, lo speriamo tutti di vivere in un mondo migliore. È un evento organizzato dal Consorzio di Bonifica delle Marche, che certamente molti di voi non sanno neanche chi è e cosa fa, ma lo faremo dire al padrone di casa, al presidente del Consorzio, tra pochissimo, e ho il piacere veramente di annunciare qui presente sul palco, accanto a me, il professor Massimiliano Fazzini. Io non starò a dirvi, ad elencarvi, non starò ad elencarvi il suo ricco e nutrito curriculum. Lui è climatologo, nivologo, geologo. È stato chiamato in causa anche, purtroppo, per la tragedia che ha colpito la Siria e la Turchia e vi dico solo questo, che certamente fa molto scena. Lo abbiamo strappato a Cortina, dove è stato chiamato come esperto per i prossimi giochi olimpici invernali che ci saranno nel 2026 e proprio oggi doveva essere su perché mi diceva che ci sono i giochi paralimpici. Quindi lo ringraziamo ulteriormente per la gentilezza di essersi concesso a noi oggi. Grazie, certamente l'applauso se lo merita. Voi siete abituati a sentire parlare di crisi climatica, non è certamente un argomento nuovo perché lo affrontate nelle materie scientifiche, tutti noi docenti, perché anch'io sono docente e anche in qualche scuola che qui presente lo sono stata, insegno diritto ed economia, si fa anche in educazione civica, tra l'altro l'obiettivo 13 dell'agenda ONU 2030 cita proprio di adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico. Quindi certamente non è un argomento nuovo, del resto le cronache parlano continuamente delle tragedie che sono conseguenza di questo cambiamento climatico. Recentemente abbiamo ancora negli occhi le immagini della tragedia di Cantiano, ma anche qui a Pesaro, la recente esondazione del Foglia. Sono effetti collegati al cambiamento climatico? Oggi è chiamato a spiegarcelo il professor Massimiliano Fazzini. Io però a questo punto darei subito la parola al presidente Netti, se vuole venire qui accanto a me, per capire chi è il consorzio di bonifica, cosa fa e perché soprattutto ha voluto organizzare un evento dedicato alla crisi climatica. Grazie Francesca. Innanzitutto ragazzi io devo ringraziare i vostri docenti che hanno avuto la sensibilità di indirizzarvi e speriamo che all'uscita avrete giudicato bene i vostri insegnanti perché vi hanno portati ad un incontro utile. Voi siete i primi in un percorso. Questa è una prima fase divulgativa, lo faremo in tutta la regione. Speriamo che la sensibilità dei docenti e degli studenti sia pari alla vostra presenza e io vi prego di farvi un applauso perché avete riempito la sala. Ve lo meritate, ve lo meritate, perché spesso si dice non organizziamo eventi con le scuole perché poi scappano via tutti e invece siete tutti, forse lasciamo a qualcuno il dispiacere di non essere qui con noi oggi. Di cosa si interessa il consorzio di bonifica delle marche? Dell'acqua. A me non piace parlare della siccità, delle alluvioni, a me piace parlare del bene primario più prezioso che abbiamo sulla terra, l'acqua. Noi ci interessiamo dell'acqua tutto tondo, quando è poca, quando è troppa, come governarla, i limiti del governo dell'acqua e quindi soprattutto della relazione che il mondo, l'uomo deve avere con questo elemento che è l'essenza della nostra vita. Senza acqua la vita sarebbe impossibile. Dicevo prima che questo è il primo evento di una campagna divulgativa, cioè noi oggi ci rivolgiamo indifferentemente alle scolaresche per far vedere quello che il professor Fazzini e lo ringraziamo della sua presenza e anche della sua competenza. Ecco, poi però ci sarà una seconda fase. Alla fase divulgativa seguirà una fase formativa, cioè chi di voi penserà che in relazione all'argomento possa svolgere un ruolo, ed è un ruolo che noi abbiamo già definito, è un ruolo di meteoreporter. Voi avete anche qualche sito su internet che si affida ai meteoreporter, però lo fa così in maniera episodica, in maniera forse anche troppo banale. Noi invece lo vogliamo fare in maniera sistematica, cioè formare attraverso corsi di formazione delle persone che siano gli occhi sul territorio, che abbiano la capacità in occasione di evento di creare una rete nella nostra regione capace di dare quelle informazioni in tempo reale che non è possibile, come purtroppo gli eventi di Cantiano hanno dimostrato, supplire semplicemente con le macchine, con i meteor radar, con l'informatica, poi le stazioni di rilevamento non funzionano, poi magari il meteor radar magari per qualche minuto non è sotto controllo o via dicendo, o non funziona come nelle macchine. E quindi noi pensiamo che sia insostituibile in ausilio e organizzati in sintonia con la protezione civile regionale, creare delle figure professionali, accreditate, formate, che costituiscono questa rete. Quindi io vi ho dato il perché di questo primo incontro e lo scopo attraverso il quale noi pensiamo di arrivare a formare questa grande rete del consorzio di bonifica di meteoreporter, di ragazzi che sono formati, hanno gli strumenti per poter misurare le criticità che si evidenziano, sono sul territorio, sono nella loro città, sono vicini al loro paese e quindi possano fare questo tipo di funzioni. Per cui oggi la platea è aperta a tutti, tutti i curiosi, tutti quelli che si vogliono informare, con criterio scientifico, diceva prima un vostro compagno di classe. Criterio scientifico significa che i dati debbono essere acquisiti, acquisiti con metodiche omogenee, elaborati, studiati, approfonditi, verificati, comparati e matematica. Qualcuno diceva, no? Facciamo delle lezioni di che? Noi facciamo delle lezioni di matematica, di fisica, diciamo così, ma nel senso applicata alla vita reale. Capire cosa significa quella nuvola in cielo, capire cosa significa l'innalzamento rapido della temperatura in un determinato posto. Significa che una precipitazione sta per arrivare e più è veloce l'elevazione della temperatura e più la perturbazione è importante, imponente. E poi accade quello che è accaduto a Cantiano, che due masse d'aria contrastanti si bloccano fra di loro e fanno cadere sul territorio 415 mm di pioggia. Ecco, in poche ore. Allora, io vi auguro buon lavoro naturalmente e speriamo anche che per voi sia una piacevole conversazione, ne sono convinto. E con alcuni di voi dico ci rivedremo. Grazie. Allora, il primo stimolo che vi arriva è diventare meteoreporter, quindi qualcuno ci pensi, poi magari diremo anche come. Per completezza, perché l'avvocato Netti ha detto che il consorzio si occupa di acqua, il consorzio si occupa di tante cose, certamente di acqua, vi dico solo che gestisce la diga di mercatale che magari qualcuno di voi ha anche visitato, si occupa della manutenzione dei corsi d'acqua minori, ma fa un'infinità di altre cose, fa ponti e quindi è un ente veramente importante e chissà che magari in futuro qualcuno di voi possa collaborare con l'ente, come esperto in materia e con questo approccio scientifico. A questo punto però io darei la parola al professor Fazzini. Come giornalista sono abituata e soprattutto giornalista che si occupa d'ambiente, sono abituata a leggere molto spesso di fenomeni causati dalla crisi climatica. Leggevo pochi giorni fa sul Corriere della Sera che il 2022 verrà archiviato come l'anno più caldo degli ultimi 222 anni, ovvero da quando ci sono rilevazioni, fonti CNR, ISAC, quindi fonti assolutamente accreditabili. Leggevo che mai come l'anno scorso sono dimagriti i ghiacciai nelle Alpi. Due giorni fa su Rai 1, uno speciale veramente bello, ha lanciato segnali allarmanti. Ma io a questo punto credo, anzi chiedo a lei, professore, ma quanto è grave questo cambiamento climatico? Buongiorno ragazzi, intanto buongiorno a tutti. Non è la frase di circostanza che io qui sia veramente contento di esserci perché a me piace insegnare e voi mi dite, voi i vostri colleghi mi dite che sono abbastanza bravo nel farlo. Cerco di fare divulgazione sempre umilmente perché bisogna assolutamente essere chiari, poi certe volte ci si riesce, certe volte un pochino meno, però uno ce la mette tutta. Però è fondamentale usare la scienza. Purtroppo sul web la scienza spesso e volentieri è dimenticata, anche alcuni esimi colleghi tante volte mettono un pochino da parte la scienza un po' per sensazionalismo, un po' per attirare l'attenzione, però così non si è costruttivi e non si è educativi. Allora la domanda della professoressa è molto molto chiara e richiederebbe due, tre, cinque seminari se vogliamo usare il metodo scientifico come dicevi tu, perché bisognebbe far vedere tantissimi numeri. È chiaro che il tempo a disposizione è quello che è, cercheremo di farlo capire. La crisi climatica è di una magnitudo, cioè di un'importanza molto molto evidente. Perché? Per due numeri semplicissimi. Noi sia dai dati meteorologici di cui disponiamo appunto da almeno 250 anni, in Inghilterra anche 300 anni, in Italia le prime osservazioni appunto sono di 220 anni fa, sia dai dati cosiddetti proxy, cioè dai dati climatici di tipo qualitativo, non preciso, che noi ricaviamo dallo studio delle carote glaciali, dallo studio dei pollini, dallo studio di determinati stratificazioni nell'ambito geologico. Noi vediamo che con ogni probabilità un aumento di temperatura così forte in un dato, in un lasso di tempo così breve, 50 anni, probabilmente non si è mai verificato. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Allora o è cambiato qualcosa nell'assetto generale del sistema solare, che molti autori, molti colleghi, vedono in questo forcing delle temperature dipendente da un qualcosa di strano, tra virgolette, nell'ambito geofisico piuttosto che astronomico, senso lato quindi spostamento della Terra molto più rapido di quello che dovrebbe essere verso il Sole e via dicendo, per dirvene una, oppure in versione di campi magnetici. Molto probabilmente invece ciò dipende dall'azione umana. Dall'azione umana in senso lato, cioè intesa sia come emissione di gas serra in atmosfera, e questo è un dato inconfutabile, ci sono le misure un po' dappertutto nel mondo, ci sono dei dati veri e quindi noi possiamo ricavare delle relazioni tra la presenza di vari gas serra in atmosfera e la variazione della temperatura e non solo, in questo caso anche delle precipitazioni. Poi c'è il discorso di come si comporta l'acqua, cioè l'acqua è il nostro bene più importante, ma quando ce n'è troppa nel nostro ambiente fisico, che noi abbiamo fortemente antropizzato, cioè abbiamo costruito in parole povere spesso e volentieri dove non si sarebbe dovuto costruire, allora iniziano i problemi. Allora si parla di rischio, di rischio per noi tutti. Il rischio è dipendente dalla presenza dell'uomo, detto in parole molto povere. Più l'uomo ha creato in termini di infrastrutture, di abitazioni, di tutto ciò che può costruire, più è presente il territorio e se in quel territorio arriva una quantità di acqua maggiore di quella che può sopportare, allora inizia ad aumentare il rischio. Quindi il problema di base è questo, che la crisi climatica ha come evidenza non il fatto che la temperatura sia aumentata di un grado, un grado 1, un grado 2, quello che vogliamo, un grado 18, 0,97, tutti i numeri che vedete. Ma perché questo grado in più, io sfido chiunque di voi a immaginarlo, a rendersene conto, cioè se adesso vi dico che qui dentro ci sono 21 gradi e mezzo, 22 gradi e mezzo, voi riuscite a discernere? Io no, ok? Ma quel grado in più è qualcosa di enorme a livello di effetti sul territorio. Pensate che con un grado in più di temperatura si eleva il limite dei boschi di alto fusto di circa 300 metri. Il limite delle nevi perenni, cioè dei ghiacciai, si può innalzare anche di 450 metri. Questi non sono numeri ipotetici, ma sono numeri verosimili che derivano appunto dall'attività scientifica che appunto il mondo accademico o il mondo della scienza in senso lato compie ogni giorno. Ed è per questo che noi dobbiamo essere precisissimi nello studio, nell'analisi dei dati, perché vi dobbiamo ridare, vi dobbiamo restituire un dato più preciso possibile e soprattutto un'evidenza sul territorio che è fondamentale. Quindi è in tal senso che la crisi climatica è importante. Perché fino da quando l'uomo governa anche attraverso un monitoraggio molto fitto e sempre più importante il controllo delle vicende climatiche, un tale forcing delle temperature non si era mai visto e quindi siamo impreparati. Siamo impreparati e l'equazione di base, non spaventatevi, è molto semplice. Più caldo, più energia a disposizione dei mari, delle terre, dell'atmosfera. Quindi tutto ciò come si esplica? Con un clima che si sta estremizzando, come poi vedremo. Cioè ci sono più estremi climatici, più caldo d'estate, in quelle poche volte che fa freddo le punte di freddo sono più intense, ci sono più lunghi periodi di siccità, ci sono improvvise manifestazioni temporalesche, quindi forti temporali, che a causa di questa maggiore energia a disposizione del sistema sono spesso più violenti, più intensi e mettono in crisi il nostro sistema, il nostro ambiente fisico fortemente modificato dall'uomo. Quindi l'uomo è un po' il punto focale di questa crisi climatica. Ma perché è il punto focale? Per un semplice motivo. Perché l'uomo è ancora adesso abituato a dire la natura si deve adattare a me. Adesso abbiamo fatto dei grandi danni, siamo noi che dobbiamo ripararli, perché la natura si adatta in maniera molto più rapida di quanto si può adattare l'uomo. E il primo, oltre al rischio idrogeologico, il rischio idraulico, quindi alluvioni, mareggiate e via dicendo, il problema più grande è che l'acqua buona, tra virgolette, sta finendo e quindi dobbiamo imparare a risparmiarla e ad utilizzarla in maniera perspicace, in maniera corretta. Ad esempio, stamattina appunto dicevamo abbiamo le paralimpiadi, le prime gare paralimpiche a Cortina e mi chiama il responsabile di gara e mi fa, guarda che fa talmente freddo che il ghiaccio si sta spezzando. nelle paraboli. Devi metterci un pochino di acqua, semplicemente. Però non con il tubo, ma usala bene, perché l'acqua non ce n'è. Quindi anche in questi piccoli gesti che poi sono mossi, che poi muovono attività di milioni di euro sponsor, FIS, Comitato Olimpico, l'acqua è talmente preziosa che non ha prezzo. Ricordatevi sempre di questo. Penso che dopo questa anticipazione possiamo iniziare a vedere delle cose. Io ho preparato una presentazione ma non deve essere noiosa e pesante. Vi faccio vedere dei numeri che testimoniano veramente quello che ho detto, senza stare a sentire coloro che distorcono l'informazione non rendendola più scientifica per motivi loro, non sicuramente secondo un approccio prettamente scientifico. Allora possiamo iniziare un pochino con il discorso, poi chiaramente sarà una continua interdigitazione tra me, la professoressa e voi, perché voi dovete in qualsiasi momento interrompermi, se non è chiaro il concetto, e fare magari anche delle domande. Abbiamo deciso di intervallare queste slide con dei brevi filmati inerenti, i più grandi problemi che abbiamo in zona, cioè fondamentalmente il rischio mareggiato, il rischio di esondazione, ma dovrà essere questo un dibattito, cioè questo non è un Alexio Magistralis, come spesso siamo abituati a fare. Questo deve essere divulgazione, ma come voi avete da imparare qualcosa da me e io ho sicuramente qualcosa da imparare lì. Saluto poi oltretutto il dottor Gennari, che è uno dei miei maestri, è uno dei miei maestri in campo geologico, se potete fare un applauso perché è come me responsabile nazionale di uno specifico gruppo di lavoro della Sigea, della Società Italiana di Geologia Ambientale e lui veramente ne sa una più del diavolo, se non altro per esperienza e competenza. Quindi grazie Enrico di essere qua, è veramente un vero piacere. Grazie. Allora, possiamo iniziare e chiaramente in questo marasma di informazioni che noi abbiamo, soprattutto dal web, c'è un po' il problema di una certa confusione tra il ruolo del meteorologo, il ruolo del climatologo, l'idrologo, il nivologo. Tutti dicono, ad esempio io spesso e volentieri, ho la fortuna e sfortuna di andare spesso in televisione, sono nel sottopancia, certe volte scrivono meteorologo, certe volte climatologo, certe volte geologo, certe volte geofisico. Chiaramente voi dite questo sa tutto e non sa niente, ed è vero. Io sono un umile climatologo che è specializzato molto negli studi, nei renti, le precipitazioni, le temperature e soprattutto la nere, per quello che mi diletto anche un po' in mondi molto molto belli. Quindi, allora, è chiaro che dobbiamo subito chiarire la differenza tra la climatologia e la meteorologia. La meteorologia è la scienza che studia il tempo presente, cioè se io adesso andassi fuori da qui e dicessi, avessi una stazioncina meteorologica e dicessi, a Pesaro adesso ci sono 3 gradi, c'è l'80% di umidità e c'è un vento di tramontana a 7 km all'ora. Quello è il tempo meteorologico di un determinato punto in un determinato momento della giornata. Perché sono molto importanti questi dati che devono essere rilevati con delle centraline a norma internazionale? Perché altrimenti poi vengono fuori dei dati che ci danno dei problemi. Capirete perché? Sono importanti questi dati perché rappresentano i dati che noi siamo in pasto a questi enormi computer di calcolo che poi con delle complicatissime operazioni matematiche, pensate che il centro europeo adesso che si è trasferito a Bologna ha quattro computer che fanno ciascuno 127 miliardi di operazioni al secondo. Quindi è chiaro che questo ci aiuta molto negli avere appunto le carte meteorologiche e i numeri, le carte meteorologiche e i numeri di cui voi poi potete beneficiare o in termini scientifici attraverso coloro che fanno conoscenze o in termini un po' meno scientifici attraverso le numerose applicazioni che abbiamo in rete. La climatologia invece è la ripetitività di queste informazioni meteorologiche che io prendo ogni ora in circa 32 mila punti della superficie terrestre e marina, più ci sono anche i dati rilevati a satellite, il progetto Copernicus e via dicendo. Diciamo quando io ho un lungo periodo di questi dati continui, senza buchi di misurazione e omogenei, nel senso che la stazione meteorologica non deve aver subito sostanziali variazioni di posizione, allora io posso studiare il clima di quel punto o di quella zona. Secondo lo standard WMO, quindi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, dobbiamo avere almeno 30 anni di dati consecutivi ed omogeni. Voi a Pesaro avete la fortuna di avere l'Osservatorio Valerio, che è uno dei vanti mondiali della meteorologia. Se ci fosse il Dottor Nobili lo ringrazierei di persona. Allora, ecco, io chiaramente ho citato il personale proprio perché tuttora fa, quindi perfetto, grazie infinite perché noi siamo, l'Osservatorio Valerio fa parte della rete mondiale di osservatori storici, ultrasecolari, ed è veramente un vanto insieme all'Osservatorio Serpieri di Urbino, ricordiamoci. Ne abbiamo due su cento nella regione Marche, quindi siamo messi bene anche in quello. Possiamo andare avanti e quindi è chiaro che la climatologia è una scienza molto più osservativa della meteorologia che si basa più che altro su modelli che cerca di capire come il continuo andirivieni di queste vicende climatiche incide sul territorio. Il climatologo moderno non è quello che calcola la media, la mediana, la somma dei giorni di pioggia, quanto piove, lo fa anche, ma queste sono le condizioni che devono essere poi applicate sul territorio per cercare di capire come le variazioni, importante o meno, di questi parametri, temperatura, umidità, vento, incidono sull'evoluzione del territorio stress. Ok? Allora è chiaro che la scienza che noi seguiamo è la statistica. Cioè noi per dire che è un fenomeno eccezionale o meno dobbiamo necessariamente rifarci alla statistica. Non è un discorso semplice ma vi farò vedere alcuni esempi. Possiamo andare avanti? Allora se parliamo di cambiamento climatico dobbiamo intendere una variazione significativamente importante della statistica e per cui possiamo dire che un fenomeno estremo ripetendosi tante volte non diventa più estremo e quindi diventa il nuovo clima. Senza prendere in considerazione i percentili, le deviazioni standard perché qualcuno di voi li può conoscere, qualche altro di voi magari ancora non ha affrontato queste problematiche. Quindi per andare subito a un primo punto fondamentale. Una rondine non fa primavera. Cioè se io ho una stagione particolarmente secca o una fase di gelo particolarmente cruda non posso dire statisticamente che dipenda dal cambiamento climatico. Se questa evidenza si ripeterà più volte negli anni prossimi allora sì che lo posso dire perché l'eccezionalità statisticamente non è più tale ma diventa la quasi normalità. Poi a livello pratico sappiamo tutti che questa estremizzazione climatica è con ogni probabilità frutto del cambiamento climatico in atto. Ma dal punto di vista dei numeri ancora non posso dirlo. Quindi chi dice siamo al 100% sicuro che l'alluvione di Cantiano dipenda dal cambiamento climatico è scientificamente sbagliato. Punto. Possiamo andare avanti. Ecco i tempi sono cambiati purtroppo in peggio. Questo è il grande colonnello Bernacca che si tracciava i fronti a mano, che faceva le carte a mano, che aveva a disposizione un'immagine satellitare ogni tre ore di scarsa qualità e ci beccava spesso e volentieri. Adesso possiamo andare avanti con questa serie di, vedete, Paroloni, Caronte, piuttosto adesso questa avvezione di aria fredda è stata ribattezzata da enti pseudo scientifici, Nicola. Cioè qui ognuno dà i nomi, ognuno fa come si pare. Purtroppo questo è un grande problema dell'Italia. È un grande problema dell'Italia perché? Perché l'Italia su 197 paesi del mondo è uno dei 15 paesi in cui non è ancora attivo un servizio meteorologico nazionale. Noi non abbiamo un servizio meteorologico ufficiale. Non è l'aeronautico alla protezione civile il servizio meteorologico, non c'è. Finalmente dall'anno passato si è stata creata questa Italia Meteo che sarà il nuovo servizio meteorologico nazionale ma che al momento purtroppo procede nel suo formarsi molto a rilento per le solite vicende burocratiche italiane. Quindi è normale che in Francia queste definizioni sono subito timbrate come FAC. In Italia invece per fortuna o per sfortuna tutti possono manifestare le loro idee però poi creano solo una gran confusione. Possiamo andare avanti. Ecco questo è Caronte via dicendo. L'Artico potrebbe essere solo un antipasto del meteo scatenato. Cioè non si può andare avanti con questi titoloni perché attenzione provocano apprezzione nella popolazione. Andiamo avanti. Ecco questo è l'esempio di tempo meteorologico. Queste sono le temperature degli otto di stamattina. Ok? Questa è la rete, è parte della rete della regione Marche, del centro funzionale regionale. Vedete temperature piuttosto basse ovunque, quasi tutte inferiore allo zero. Stiamo vivendo una moderata ondata di freddo eppure avete sentito fra i gelo, nevoni. Cioè se questa è una situazione da neve io non capisco veramente, già capisco poco della mia scienza. Non capisco veramente più nulla. Non ci sono le condizioni atmosferiche per avere grandi nevicate né freddo intenso. Però vedete io so che alle 7 o alle 8 scusate avevo quelle temperature, vedete, in giro per la nostra regione. Possiamo andare avanti. Facciamo lo zoom ad esempio su Pesaro e vedete la spezzata in rosso che mi dice ogni due ore che temperatura ho. Vedete? Io mi riferisco all'asse delle X, vedete vado da meno 0,5 a 2 gradi e ad esempio oggi alle 6 avevo una temperatura di 1,7 gradi. Quindi questa è la meteorologia, è il tempo atmosferico. Andiamo avanti. Questo esempio invece è un tipo di costudio climatologico, cioè le temperature medie annue per circa 120 anni, gli ultimi 120 anni, nella stazione di Milano Duomo. Vedete sempre sull'asse delle Y ho la temperatura media annua. Sull'asse X invece, vedete, ho gli anni e se io tiro su una verticale e incontro questo puntino corrispondente all'anno, vado, vedete, a scorrere su questo parallelo e vedo qual è stata la temperatura media annua di quell'anno. Allora io ho 120 numeri, 120 tati. Vedete com'è caotico il segnale? L'atmosfera è un sistema caotico che oltretutto non tiene conto del tempo. Cioè l'atmosfera non sa che oggi è l'8 febbraio 2023, non lo sa, perché è una cosa che abbiamo inventato noi. Per cui è chiaro che il segnale, sia delle temperature e delle precipitazioni annuali, è sempre molto molto variegato, è molto irregolare. Ma vedete, introducendo quella singola retta, vedete come la retta mi dice, in maniera molto approssimativa, come stanno variando le temperature negli ultimi 120 anni. Vedete che questa retta va verso l'alto. Poi adesso non vado nemmeno a toccare Y uguale a X più BMX più Q, ma chiaramente l'A o l'M dell'equazione di primo grado della retta è il coefficiente angolare, se esso è positivo significa che la retta va verso l'alto, se è negativo significa che essa va verso il basso. Vedete che qui non c'è nemmeno rappresentata. Quindi questo è un bellissimo lavoro fatto da Milano Duomo, ma scientificamente non è completo, perché io non ho l'equazione che mi dice di quanto sta aumentando la temperatura. E quindi lo posso fare a occhio. Partiamo più o meno da 13 gradi, vedete dov'è che arriva la retta? Circa 15 gradi. Quindi significa che a livello piuttosto chiometrico, negli ultimi 120 anni la temperatura è aumentata a Milano centro di 2 gradi, che è un'enormità. E questo è il segnale che troviamo praticamente dappertutto in Italia. Consideriamo che Milano è la seconda città più estesa d'Italia, quindi c'è un'isola di calore molto forte, quindi il centro della città si scalda molto di più delle periferie. Però questo è un dato verosimile e soprattutto valido scientificamente, perché la stazione meteorologica non è stata mai spostata. Possiamo andare avanti? Ecco, questa è la climatologia moderna, il concetto di smart climatology. Quello che dovete perseguire voi, chi farà fisica, chi farà geologia, chi farà ingegneria, chi farà chimica fisica, chi farà scienze forestali. Cioè adesso la climatologia non si basa più esclusivamente su questi discorsi, come vi dicevo prima, ma si va molto sul concetto di eccezionalità climatica. Quindi ad esempio, anziché prendere stazioni estese per almeno 30 anni, soprattutto se non abbiamo a disposizione una serie storica lunga, si prendono anche delle serie storiche più brevi, a patto che si debba studiare la climatologia puntuale e locale. E così riusciamo a capire, riusciamo a tradurre queste informazioni nel concetto della variabilità climatica, cioè dell'estremizzazione climatica che poi andremo un pochino a vedere. La smart climatology è fatta, vedete, di teleconnessioni, quindi di studio delle varie circolazioni atmosferiche e marina che caratterizzano l'intero globo, perché l'atmosfera, così come il mare, è un sistema aperto, dove appunto si hanno queste teleconnessioni, vedete le reanalisi che non sono altro che uno studio postumo delle condizioni meteorologiche ripetute nel tempo che abbiamo avuto e filtrate attraverso delle equazioni molto particolari. Il long range forecast, cioè andiamo a migliorare la previsione meteorologica dai 3-4 giorni canonici nei quali noi cerchiamo di cimentarci con esiti più o meno buoni e cercare di arrivare a qualità della previsione per almeno 10 giorni e poi la machine learning, cioè l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale fa sì che ogni dato che mi arrivi in qualsiasi momento da un qualsiasi punto del mondo sia assorbito dal sistema che automaticamente autoapprende e rifà il calcolo e quindi mi dovrebbe dare delle previsioni più precise. Possiamo andare avanti. Vedete, queste sono immagini molto più frequenti negli ultimi anni di una volta. Vedete, chicchi di grandine, grandi diametri di 6-7 cm, piuttosto che mareggiate violentissime. Questo è il porto di Rapallo, il porto più VIP d'Italia, completamente distrutto dalla mareggiata dell'alluvione Vaia del 2018. Queste invece sono immagini molto molto più frequenti, purtroppo. E questa è l'evidenza di un corso d'acqua che è esondato, cioè uscito fuori agli argini, in questo caso distruggendoli. Il problema di base è che noi vediamo che il sedimento, sia da un punto di vista fine che grossolano, che è stato preso in carico dal fiume nella sua esondazione, ha occupato un'area che attualmente è antropizzata. Vedete, qui siamo in Valdivara, nel Levante Ligure. Il problema è che, per farvi l'esempio di come si è ammessi, spesso e volentieri, al primo piano di questa palazzina qua c'è il comando operativo comunale della protezione civile. Allora capite bene che qui c'è qualcosa che non va. A livello di comunicazione, a livello di strafalcioni mentali di diverso genere, ognuno, chi è senza peccato, scagli la prima pietra, però queste cose non si possono vedere. Andiamo avanti. Ecco, fenomeni di acqua alta sull'Alto Adriatico, in particolare in modo Venezia. Venezia che, come vedremo, negli ultimi vent'anni ha visto aumentare in maniera esponenziale i fenomeni di acqua alta di notevole importanza. Per fortuna adesso il MOSE sembrerebbe abbia iniziato a funzionare decentemente, anche se ha dei problemi enormi di cui qui non parleremo, e quindi è chiaro che il rischio avvettivo di questo genere di esondazione, quindi esondazione marina per il centro di Venezia, è sicuramente stato molto mitigato. Questo è un termine molto importante, mitigazione del rischio. Il rischio non potrà mai essere zero, però noi con le nostre conoscenze e con l'adattamento di cui parleremo dopo possiamo sicuramente abbassarlo. Ripeto, quasi mai o mai lo possiamo completamente annullare. Allora, vedete, parliamo un po' di climatologia. Che cosa è successo negli ultimi 120 anni? Le temperature sono aumentate a livello globale in maniera piuttosto disomogenea, ma vedete che il rosso è totalmente dominante sul blu, che evidenzierebbe invece un calo delle temperature in questi 120 anni. E vedete, ci sono delle aree nel continente euroasiatico, specialmente tra Russia, Siberia, piuttosto che nel Canada orientale, piuttosto che nella foresta amazzonica, nel Mato Grosso, in cui le temperature sono aumentate di oltre 2 gradi. Però, per fortuna, quelle sono zone relativamente poco antropizzate, se non desertiche, per i vari climi che le caratterizzano, dal clima subartico della Siberia e del Canada, al clima steppico delle zone del Mato Grosso e del Brasile sudorientale. Vedete che il Mediterraneo, vedete quanto è piccolino il Mediterraneo? È anche difficile, se non si ha l'occhio preciso, riconoscerlo. Il Mediterraneo, ecco, è una delle aree fortemente antropizzate che si è scaldata di più nel mondo, a tal punto che noi climatologi chiamiamo il Mediterraneo un hotspot climatico, cioè una zona dove la temperatura rispetto alla media globale è aumentata di più. E siccome sul Mediterraneo ci vivono circa 180 milioni di persone, è chiaro che il rischio conseguente a questa maggiore energia a disposizione sta aumentando. Il rischio idrogeologico e ambientale in senso lato. Andiamo avanti? Ecco, questa è la differenza, lo studio, vedete, aggiornato a quest'anno, chiaramente, negli ultimi 60 anni, di come sono variate le temperature in termini di anomalia rispetto al trentennio di riferimento 1961-1990. Vedete che la temperatura negli ultimi 60 anni è aumentata di circa un grado e mezzo. La spezzata in rosso è relativa alla penisola italiana, circa 4200 stazioni analizzate. In blu, invece, abbiamo il segnale globale. Vedete che più o meno i due segnali si rincorrono, spesso e volentieri però negli ultimi 20 anni il segnale italiano è più elevato a livello di riscaldamento rispetto a quello globale. L'Italia mediamente è più calda negli ultimi 50 anni di 2-3 decimi di grado rispetto al resto del mondo. Questo è il maggior aumento che abbiamo avuto. Andiamo avanti? Ecco, quantifichiamo, ci vogliono i numeri, i grafici vanno bene, ci vogliono i numeri. Negli ultimi 10 anni, vedete, trend, gradi in 10 anni. Quindi negli ultimi 10 anni la temperatura media in Italia è aumentata, pensate, di 0,36 gradi. Solito discorso di prima, ma 0,36 gradi che vuoi che sia? Significa che se noi moltipliciamo per 10 andiamo al secolo, continuando così con questo forza in climatico, il prossimo secolo si scalderebbe di 3,5 gradi e sarebbe veramente un qualcosa caratterizzato da un punto interrogativo grande anche per la nostra stessa sopravvivenza. Quindi l'aumento è pazzesco e le stagioni in cui ci si scalda di più sono quelle del semestre estivo, quindi da maggio a ottobre. Questa evidenza ci si scalda di quasi mezzo grado ogni anno coincidendo o facendola complementare col fatto che il nostro clima, il clima sub-mediterraneo delle Marche ad esempio, è caratterizzato da un minimo di precipitazioni estive, fa sì che le seccità siano più importanti, ci sia più evaporazione, più evaporazione, meno disponibilità di acqua, soprattutto di quella buona, tra virgolette. Quindi il problema della penuria di acqua nelle future stagioni estive con ogni probabilità diventerà più gravosa. Poi vedremo eventualmente come affrontarla. Andiamo avanti? Ecco, vedete sul centro Italia possiamo osservare due segnali climatici, termometrici come li chiamiamo, ma noi focalizziamo l'attenzione su questi due numeri. Vedete dal 1960 al 2020, in 60 anni, mediamente la temperatura all'anno in 10 anni è aumentata ai 0,38 gradi. Coincide un po' con il dato che avevamo visto prima. Se noi prendiamo il trentennio di riferimento l'ultimo, il trentennio 1991-2030, la temperatura è aumentata a più di mezzo grado ogni 10 anni. Quindi significa, vedete anche come la spezzata blu è più ripida rispetto alla spezzata rossa? Significa che negli ultimi trent'anni l'aumento delle temperature è stato molto più forte rispetto a prima. Per fortuna, io sempre voglio essere ottimista, per fortuna, a parte il 2022, che qui non è rappresentato, vedete ci fermiamo al 2021 perché ancora non abbiamo i dati ufficiali perché bisogna validarli, è un processo molto lungo. Vedete che negli ultimi 4-5 anni sembrerebbe che forse si tenda a un flesso, a un asintodo orizzontale, cioè non cresce più tanto forte questo segnale. Vediamo se è un segnale temporaneo oppure magari se sia la nuova normalità. Per cui già non avendo più un aumento ulteriore di temperature, siamo su valori altissimi, ma ci potremo adattare in maniera migliore. Questo è quello che ci interessa di più oggi. Come variano invece le precipitazioni sempre negli ultimi 60 anni? Guardate un attimo sto grafico. Voi riuscite a dire se aumentano o diminuiscono? Io non ci riesco perché non si riesce a capire. Noi in climatologia diciamo che il segnale pluviometrico è malnoto, nel senso che vedete ci sono quegli istogrammi verdi che mi dicono in quell'anno è piovuto più rispetto alla media degli ultimi trent'anni, quelli in giallo in che mi dicono è piovuto meno. Allora vedete che c'è una certa ritmicità, no? Anni in cui piove di più, anni in cui piove di meno. Poi c'è il periodo, vedete, degli anni ottante in cui veramente abbiamo avuto una crisi idrica importante, non ce lo ricordiamo, voi non erate nati, noi ce lo ricordiamo, erano anni veramente molto secchi, ma molto freddi, per cui c'era meno evaporazione e meno richiesta d'acqua, soprattutto in estate, e quindi ce la cavevamo in un certo modo. Adesso, quando abbiamo anni secchi, abbiamo anche estati molto caldi, per cui il problema è veramente molto forte. Però vedete, negli ultimi 10 anni, quindi 12 anni, sono stati 7 anni più piovosi della media e 5 anni meno piovosi della media. Quindi il fatto che si continui a sentire la solita tiritella che non piove più. Non è assolutamente vero. Secondo punto importante. Se possiamo andare avanti, questo è il numero che chiaramente, spesso e volentieri, lascia sorpresi. Vedete che non c'è una tendenza? Trend percentuale in 10 anni, 0, cioè meno 0,14, ma con il coefficiente di determinazione più o meno 1, significa che potrebbe anche aver piovuto leggermente di più. Quindi non è vero che piove meno, ma il problema di base è che i 996, non è vero che 255 mm che sono la media pluviometrica italiana, in Italia piove 995 millilitri su metro quadro ogni anno mediamente, con valori che vanno di 300 mm della piana di Catania ai 3.000 mm delle montagne friulane. Ad esempio Pesaro ha una piovosità medianua di 855 mm, leggermente inferiore alla media italiana. Questi 855 mm, se negli anni 60-70 cadevano in 110 giorni, adesso cadono in 80 giorni. Che significa? Riduco di un quarto i numeri di giorni piovosi, aumenta di un quarto l'intensità media giornaliera delle piogge. È proprio aritmetica, no? E soprattutto, siccome abbiamo pochi giorni di pioggia, aumentano i periodi senza precipitazioni, cioè quelli siccitosi. Se queste serie siccitose avvengono in inverno, ce ne possiamo anche non accorgere perché di acqua ne serve relativamente poca, non serve per l'agricoltura, non serve per i condizioni per raffreddare, ma se ciò capita in estate, chiaramente andiamo in fortissimo deficit idrico. Ok? Possiamo andare avanti. Ecco, allora il cambiamento climatico è manifestato in termini di eventi meteorologici. Vedete? Quella era la situazione, vedete quelle due gaussiane, quelle due curve che fanno così, no? A gobba di cammello. Quella più a sinistra è la situazione di 20 anni fa. Quella più a destra è la situazione di adesso. Che cosa succede? Guardate quando andiamo chiaramente molto più verso il caldo e gli estremi di caldo che avevamo una volta, la fine della prima curva di sinistra, adesso stanno diventando normalità. Mentre il nuovo caldo, vedete, 30 anni fa non lo avevamo. Quindi ciò implica dei problemi di evaporazione delle acque, ma soprattutto di ondate di calore. Siccome l'Italia è un paese da un punto di vista anagrafico molto molto anziano, grazie alla qualità della vita e alla speranza di vita che abbiamo, è chiaro che durante l'estate queste ondate di calore mi mandano, da un punto di vista bioclimatologico, in sofferenza una grande quantità di precipitazioni. E se non abbiamo nemmeno l'acqua, tutto ciò cresce a livello di morbidità e di mortalità in maniera esponenziale. Andiamo avanti? Ecco, questa è, parliamo un po' del 2022. Noi l'abbiamo chiamato climatologicamente l'anno orribile. Abbiamo avuto i primi sei mesi totalmente secchi, se vi ricordate, in certe zone del Piemonte e della Lombardia, dove io adesso sto, non è piovuto da gennaio fino ad aprile. Fiumi in secca, chiaramente anche durante l'inverno è la primavera, periodo di scioglimento delle nevi, dove si assiste generalmente a un massimo, anche principale, delle portate nell'area alpina. E vedete che, partiamo dal 1800, vedo un segnale molto lungo, vedete che negli ultimi anni, siamo a livello europeo, vedete che abbiamo questi 1, 2, 3, 4 anni su 5 con forti deficit tranne il 2021. Allora noi andiamo a vedere una cosa. Questo segnale qua lo ritroviamo fino al 1800? Sì, ci sono degli anni, 3 o 4 anni, 5 anni di fila in cui è piovuto meno rispetto alla media, quindi non è una cosa eccezionale. Vedete c'è una ritmicità di 40-50 anni. Questo è quello che ci dicono i numeri. Ma il problema, ancora una volta, è questo, che qui troviamo il deficit massimo negli ultimi 200 anni, scusatemi, 2017. Ma il problema è che questi sono anni, ripeto, molto caldi, per cui l'acqua serve di più e ne abbiamo troppa poca. Per cui il problema è che se la sprechiamo, per i vari motivi, poi andiamo veramente in un deficit che difficilmente potrebbe essere poi normalizzato, meglio recuperato, anche con tanti anni piuttosto piovosi o nevosi. Andiamo avanti. Ecco, vedete, queste sono le precipitazioni invernali. Vedete come ci sono oramai 5 anni con forti anomalie stagionali? E questo non si era mai verificato. Attenzione. E ricordiamoci che in questa zona le precipitazioni tardotunnali invernali sono quelli che ricaricano gli acquiferi, sia quelli delle montagne, i cosiddetti acquiferi carbonatici, quelli che hanno l'acqua veramente buona e che serve a lungo termine, sia gli acquiferi, le falde, quelle di fondo valle, quelle più superficiali, quelle più vicine a noi, che normalmente sono caratterizzate da acqua meno buona. Quindi non si ricaricano negli acquiferi montani, negli acquiferi collinari e di fondo valle. E questo è un problema enorme. Andiamo avanti. Ecco, questi sono gli effetti della siccità invernale. Questo è il Po a Mantua, a pochi chilometri da dove abito adesso. Questa è una foto di aprile. Qui ci dovrebbero essere almeno 4 metri di acqua. Vedete che non c'è praticamente nulla. Andiamo avanti. Questa è una foto satellitare in cui si vedono, appunto, da un punto di vista geologico, queste isole sabbiose, queste barre sabbiose che testimoniano di quanto sia basso il livello medio del fiume rispetto al famoso zero idrometrico. Poi che cosa succede? Dopo l'estate più calda, negli ultimi 50 anni, abbiamo una tale quantità di energia a disposizione del sistema, con un mare che ha raggiunto spesso e volentieri temperature a fine luglio di 30 gradi anche sulle nostre coste, quindi temperature tropicali. Poi abbiamo appunto, al primo sbruffo di aria fredda che arriva da nord, il contrasto con i mari bollenti e fortissimo, si formano queste strutture temporalesche tipo V-shaped, non vi interessa, che hanno delle precipitazioni intensissime sul vertice della V, vedete questa pseudo-V, questi sono tutti il numero di pulmini ogni 15 minuti e vedete che lungo questa zona si hanno delle precipitazioni statisticamente eccezionali. È quello che è successo un po' a Cantiano. Andiamo avanti. Queste sono immagini radar in cui si vede, vedete, a seconda della scala, più si va verso il rosso, quel ciclamino, più le precipitazioni sono intense. Vedete due strutture V-shaped a distanza di 300 km, cosa che non si era mai vista nel bacino mediterraneo fino a quest'anno. E questa è purtroppo un'immagine a cui tutti abbiamo assistito sia personalmente, con rilevamenti sul campo, sia attraverso i media, vedete tutto il basso fondo valle del fiume Mesa, vedete l'alvio attuale, meandriforme, tutto il fondo valle esondabile, vedete completamente esondato, in fondo c'è la città di Senigallia, in fondo ancora la struttura temporalesca Supercella che ha causato queste precipitazioni eccezionali, non sulla costa, ricordiamoci perché a Senigallia sono caduti 7 mm di pioggia, non è praticamente piovuto, ma nell'alta, alla testa della valle nell'alto bacino. Andiamo avanti, ecco, queste sono alluvioni drammatiche, questa è una foto di Cantiano, scusate la qualità ma il climatologo, il geologo devono prendere quello che c'è, vedete l'eccezionalità dell'onda di piena appunto del... ecco, allora poi dopo ci torniamo. Io farei vedere, farei vedere a tal proposito quel paio di filmati che abbiamo, di modo che i ragazzi poi state attenti a quello che vedete perché vorrei poi voi, da voi, delle conoscenze su quello che potete dedurre anche a qualche rapporta calda. Quindi vediamo un altro video. E' stata tutta all'improvviso, c'è stato tempo di fare niente, è arrivata proprio tutta all'improvviso. Sto sgommi spiegando. Ha fatto l'acqua di un mese e l'ha fatta in un'ora. I fiumi sono esplosi, è tutto lì che è successo. Poi una volta che sono esplosi sono entrati nelle strade e poi nei centri urbani. E' questo che è successo. Una bomba d'acqua enorme, mai vista prima. Il grosso, ci siamo accorti, il grosso verso le 11. Verso le 23 di ieri sera, il grosso. Ma io stavo nella frazione, quindi non avevo informazione. Dopo vedendo i video ho visto che era cominciata molto prima, era cominciata verso le 6. Verso le 6 c'era già il fiume in piena da entrambe le parti, sia di qua che di là. E che ha capito che era così grave? Alle 11. Alle 11. Con l'arrivo di tutte le forze. Dei soccorsi, dei vigili del fuoco, del ser di Fano, sono venuti su tutti. Io ho capito che era grave. Grazie. 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 Mi permetto un attimo di intervenire. Visto che il professor Fazzini ci ha dato tante informazioni, tante sollecitazioni, tanti stimoli. Avete qualche domanda da rivolgervi? Una curiosità? Sono la professoressa Nanni del Bramantra Genga. Volevo far notare, sempre attraverso questi due video, che questo signore ha detto praticamente che manca la comunicazione fra gli enti pubblici, diciamo. Dalle 6 del pomeriggio, presumo, noi lo abbiamo saputo alle 11 di sera. E quindi è successo, in queste 4-5 ore potevano praticamente quantomeno avvisare, come si suol dire. E poi invece su questo secondo video si nota anche un po' la consunzione del terreno agrario. perfetto. Quindi l'erosione proprio del suolo dovutamente alle culture e quindi diciamo al nostro cibo principale, si può dire. Domande intelligentissime. Da fatte da un professore, chiaramente non poteva essere altrimenti. Però un attimo cedo la parola al... Sentiamo se c'è qualche altro... Esatto, sì. Forza ragazzi, non abbiate timore. Cioè ok, adesso prendiamo atto del fatto che ci saranno sempre più eventi estremi, eccetera. E quindi? Cioè, abbiamo delle soluzioni. Cioè, esistono delle infrastrutture in grado di reggere oppure no e niente. Cioè, tutte le città intorno ai fiumi dobbiamo abbandonarle. Cioè, cosa dobbiamo fare? Essendoci state durante tutta la nostra storia diverse glaciazioni, possiamo dire che il cambiamento climatico è sempre esistito? C'è ancora qualcuno? Vogliamo cominciare a rispondere oppure c'è qualcun altro che ha preso coraggio dopo? Bene. Allora intanto cominciamo con quello che ha chiesto la professoressa. Sì? Quella immagine è molto significativa. Poi mi sono accorto, mi hanno detto, che il fenomeno è cominciato alle sei. E' da qui che nasce quel seme che noi pensiamo di far diventare una grande pianta, un grande albero, che si chiama Rete dei Meteor Reporter. Poi, che è il rilevamento. Dopodiché, quando c'è stato l'evento del 15 di settembre, penso di aver rilasciato qualcosa come una ventina di interviste radio, una trentina di interventi televisivi. Quindi c'è stata la domanda che nessuno mi ha fatto e sulla quale io continuo ad insistere. Cosa si può fare subito? Allora io la risposta la do a lei. Si può colmare quel gap di comunicazione subito. Poi si dice, sì, d'accordo, creata la rete dei rilevatori, come si fa a distribuire l'allarme? A me viene in mente la genialità di una compagnia telefonica che doveva installare le antenne ripetitrici in tutta Italia e, naturalmente, la preoccupazione era quella di doversi confrontare con ogni comune. L'amministratore delegato di quella compagnia, della quale non faccio il nome, evidentemente, ha detto una cosa semplice. Ma sapete cosa facciamo? Andiamo in Vaticano. Hanno i campanili in tutta Italia. Mettiamola sui campanili. Allora io dico, creiamo un sistema di allerta. Dice, ma no, poi non c'è. Facciamo l'accordo con le chiese, facciamo suonare le campane. Possibile che se io apro la diga di Mercatale debbo lanciare per cinque minuti una sirena che ha dell'angosciante, perché è la sirena dei tempi di guerra. E' quella che in qualche filmato televisivo sentite, no, con quel suono cupo, ripetitivo, ondulante. E ci sono eventi di questo genere e io non faccio suonare tutte le campane di questo mondo e avverto la popolazione, perché uno dei temi, che poi è anche oggetto di indagine, è quello del ritardo nelle comunicazioni. Ma la verità è che un sistema di comunicazioni non c'è. C'è l'evento, si riunisce il COC e poi magari il COC sta lì dove abbiamo visto che il fiume gli va a sbattere contro. No? Io non voglio adossare responsabilità. Avvocato, i ragazzi non sanno cos'è il COC. Il COC è il centro operativo comunale, è la riunione di tutti quelli che debbono preoccuparsi di prestare soccorso, di avvertire la popolazione. Io voglio parlare di quello che è l'impegno che noi pensiamo di mettere su questo argomento, peraltro già ipotizzando fin da subito un collegamento strutturale con la protezione civile. Cioè noi non è che vogliamo creare una realtà astratta nostra, scollegata, perché uno dei problemi è quello del collegamento. Rispondo alla seconda domanda, poi alla terza risponderà il professor Fazzini. Il 15 di settembre del 2022 avete sentito parlare dell'alluvione di Morovalle, di Osimo, di Castelfidardo, di Falconara? No. No. Perché non c'è stata. Non c'è stata. Non c'è stata l'alluvione di Castelferretti, non c'è stata l'alluvione sull'Aspio, Osimo, Castelfidardo, non c'è stata quella di Morovalle sul Trodica. Perché? Perché come giustamente ha detto il professor Fazzini, il rischio non si elimina, ma si mitiga, ma, scusate la battuta, se gli studi per la mitigazione sono fatti in maniera corretta, come noi pensiamo di aver fatto, e i fatti ci hanno dato ragione, si può anche eliminare. Noi abbiamo realizzato in quelle località che io vi ho citato, una serie di opere senza le quali Castelferretti andava sott'acqua, Trodica andava sott'acqua, l'aeroporto di Falconara andava sott'acqua e via dicendo. Però, anche qui, oltre a parlare di quello che è avvenuto dove non si è fatto, forse sarebbe stato importante parlare di dove si è fatto e il perché non è avvenuto. Io parlo anche del Foglia. C'è stata un'alluvione del Foglia? No. C'è stata una criticità sul Foglia? Sì, determinata da cosa? Dal mancato convogliamento delle acque del fosso di case bruciate sul Foglia. Ma il Foglia non ha esondato. Se voi adesso passate sul ponte lì, vedete che si stanno risistemando degli argini. Via Toscana è andata sott'acqua come andava sempre? No. Perché? Perché sono stati fatti dei lavori. Quindi, come dire, noi non dobbiamo essere inerti, inermi rispetto a quello che avviene. Si possono fare tante cose. Si possono fare opere. Si possono fare leggi che proibiscono l'ulteriore cementificazione dei territori. Privilegiando il recupero delle aree già compromesse. Il nostro sistema consortile nazionale è da tempo che chiede una legge sull'uso zero del territorio. Si sottraggono territori all'agricoltura. Si incrementano i fenomeni con la cementificazione. Quindi, non c'è da essere angosciati nell'affrontare questo argomento perché si è privi di soluzioni. No, no, no. Le soluzioni ci sono. Quelle immediate, che costano poco, se non niente, che quelle che stiamo cercando di praticare anche con questi incontri. E poi ci sono le previsioni strutturali. Quelle che vengono fuori, come dice sempre il professor Fazzini, dallo studio, dall'analisi dei dati, dal dato scientifico, non dalle, diciamo così, elucubrazioni di carattere di un tipo o di un altro. No, sul dato scientifico. Quindi, cosa si può fare? Si può fare quello che si è già fatto. E lì dove si è già fatto, si è visto che questi fenomeni non si sono più ripetuti, nonostante la precipitazione ultima, quella del gennaio ormai, no, ha riportato delle piene addirittura superiori in alcune circostanze di quella stessa del 15 di settembre dello scorso anno in alcuni territori. Al professor Fazzini invece è la terza. Poi faccio anche degli zoom quantitativi sul discorso che ha fatto il presidente perché dobbiamo vedere un po' che cosa è successo il 15 di settembre e poi successivamente a livello medio-climatico. Prego, la terza domanda era? Il clima è sempre cambiato, giusto? Si, il clima è sempre cambiato. Allora, il clima è sempre cambiato, assolutamente sì. Se noi abbiamo, appunto, prendiamo in considerazione i proxi di cui vi dicevo prima, anche le vicende storiche, le ricostruzioni storiche, piuttosto che una storia scientificamente valida e riconosciuta dall'ultima glaciazione, la Purmiana, quella che ha avuto termini 10.280 anni fa, in cui ricordiamoci noi avevamo ghiacciai in appennino fino a una quota di 1100 metri, si sono succedute delle epoche secche, delle epoche molto piovose, delle epoche fredde e delle epoche calde, con una periodicità che però non possiamo quantificare, non possiamo dire ogni 3.000 anni, ogni 5.000 anni, ogni 200 anni, perché non abbiamo dati quantitativi, cioè numeri sufficienti a dire è successo esattamente questo. Negli ultimi mille anni abbiamo sicuramente più evidenze, anche 1500, di un forte periodo di caldo durante il primo medioevo, intorno al 1200-1300, in cui sembra che le temperature fossero di 1,5-2 gradi maggiori di quelli attuali. Poi abbiamo avuto, come evidenza più recente, la piccola età glaciale, che si è estesa temporalmente dal 1790 al 1860, e nella quale i ghiacciai sono tornati molto velocemente, con delle pulsioni molto forti, a raggiungere quote piuttosto basse intorno ai 1700 metri sulle Alpi, e poi c'è questo forcing che stiamo vivendo adesso. Allora io vi ho fatto due esempi, quello medievale e quello della PET, della piccola età glaciale, perché? Per dirvi che variazioni significative anche in tempi di 4-500 anni, in time span, cioè in differenze temporali di 4-500 anni, ce ne possono essere anche significativi, durante la piccola età glaciale siamo arrivati a quasi 4 gradi in meno rispetto ad adesso. Ma il problema è che queste variazioni, queste oscillazioni del segnale termico in particolare, erano molto più blande dal punto di vista del raggiungimento, cioè io un aumento di 2 gradi di temperatura non lo avevo in 50 anni, ma in 400 anni. Quello che colpisce di quest'ultima pulsione termica molto violenta, dottorinatto, è la rapidità. Per quello che all'inizio vi dicevo, o è successo qualcosa che sfugge a tutti gli scienziati del mondo, che siano essi anche astrofisici piuttosto che astronomi, oppure evidentemente c'è qualche problematica non naturale che ha determinato questa variazione climatica in senso lato così repentina. Quindi i cambiamenti climatici sono sempre stati, di natura astronomica prevalentemente, ma sembrerebbe, e sempre con il condizionale, perché chi a me dice è sicuro che lo rispetto, ma non lo stimo scientificamente, perché se lo stesso scienziato poi mi dice la statistica non dice quello che dico io, allora evidentemente o è vero A o è vero Z. Bisogna essere prudenti, sembrerebbe che l'uomo sia evidentemente la causa principale di questo forcing, di questa crisi climatica. Chiaramente qualcuno di cui potrebbe dire ma 30.000 anni fa potrebbe anche essere successo parimenti, ma il problema è che l'uomo non c'era, non lo ha comunque eventualmente manifestato con degli scritti, con dei documenti o con qualcosa, per cui obiettivamente è anche difficile dirlo. Ma ripeto, avendo a disposizione dei dati significativamente precisi relative agli ultimi 10-15.000 anni, si può dire che questo sia un evento eccezionale quanto a rapidità dell'avvenimento stesso. Per quanto riguarda il discorso, appunto si è arrivati subito che cosa si può fare. Passiamo quindi direttamente al discorso adattamento. Allora vediamo un attimo di riprendere la presentazione. Prego. Ecco, allora, questo è un grafico che probabilmente i vostri professori vi hanno fatto vedere, magari no, perché purtroppo... Prego. Perfetto. Allora, magari no, perché purtroppo l'insegnante è sempre con l'acqua alla gola, deve fare tantissime cose, il programma è ampio e purtroppo ci si deve adattare, anche qui. Vedete il rischio, che è quello di cui vi parlavo, che è il rischio per noi. La nostra vita può essere in pericolo di fronte a un'esondazione, di fronte anche a problemi endogeni, cioè problemi sismici, vedere Turchia. Ma vedete che il rischio ci è dato da considerazioni quantitative sull'esposizione, il pericolo e la vulnerabilità. Allora, il problema è questo. Se io ho una zona tipo il deserto del Sahara e posso avere un terremoto di magnitudo 8 o una precipitazione assoluta di 100 mm che mi attiva le wadi, cioè i fiumi non perenni che si attiva, oppure le fiume aree calabresi, ma io non ho niente, quel luogo è pericoloso. Cioè noi abbiamo del hazard, quella zona è pericolosa. Oppure alta montagna, valanghe, le possono venire giù quante vogliono, ma se non l'uomo è pericoloso. Nel momento in cui l'uomo antropizza o comunque prende possesso di una certa zona, aumenta la vulnerabilità, aumenta l'esposizione. Ve la sto facendo molto molto semplice, che qui se no ci stiamo fino a domani. Allora nel momento in cui aumenta la sua vulnerabilità e la sua esposizione, aumenta di conseguenza il rischio. Come possiamo fare per cercare di far diminuire il rischio? Aumentando la cosiddetta capacità adattiva, che è l'unica voce che non fa aumentare il rischio, ma lo diminuisce. Capacità adattiva, lo dice la parola capacità di adattamento. Come possiamo adattarci? In due modi, con i metodi soft e con i metodi hard. Il presidente ha già anticipato un pochino queste cose. Possiamo andare avanti. Andiamo avanti rapidamente, perché qua altrimenti ci perdiamo. Ecco qua. Allora, puoi tornare un attimo indietro? Scusami. Ecco qua. Allora, l'adattamento soft, vedete, è improntato fondamentalmente, adesso, che ci siamo accorti dell'errore che abbiamo fatto fino ad ora, sull'educazione. Educazione senzolato, educazione ambientale, che dovrebbe, a nostro modesto parere come Sigea, abbiamo deciso appunto di evidenziarlo con dei documenti ufficiali, che abbiamo anche parlato con i ministri, quindi, educazione ambientale a scuola. È stata tolta la geografia, e già questa è una cosa tremenda per noi accademici, che poi, quando ci ritroviamo di fronte a enormi problemi dei ragazzi, nel leggere una carta meteorologica, andiamo in panico, siamo i primi ad andare in panico, che poi questi magari andranno a lavorare in centri funzionali, se non sanno la geografia è un problema. A prescindere da questo, l'educazione ambientale, assolutamente, che può fare anche parte dell'educazione civica, ma deve stigmatizzare il problema ambientale senzolato. L'ottimizzazione dei sistemi di gestione delle risorse, che poi vedremo cosa significa, e poi dei sistemi di prevenzione del rischio, e azioni di protezione dell'ambiente, che poi andremo a vedere. Noi dobbiamo focalizzarci, appunto, rapidamente su questo, sulla creazione di consapevolezza, per attutire le barriere ambientali e economiche, ma soprattutto di informazioni sociali, che spesso si pongono all'attuazione e all'adattamento. Vi faccio un esempio. Comune di Pesaro, un comune molto all'avanguardio da questo punto di vista, ha un piano energetico, per cercare di mitigare, l'altra voce fondamentale, il rischio attraverso l'abbattimento del gas serra, e andando molto rapidamente verso la neutralità carbonica, o almeno ci si prova, ha un piano di adattamento comunale a cambiamenti climatici, tra le cose redatto da un validissimo collega amico, in cui ci sono delle azioni in cui si dice, abbiamo un problema di mareggiate, si deve fare questo, questo e questo, poi magari lì ci sono discorsi soft e discorsi hard, cioè discorsi hard sono fondamentalmente quelli ingegneristici, per capirci. Poi ha dei progetti europei in cui l'attenzione è focalizzata su come informare perfettamente le persone del rischio, quindi giornate come queste, ma ripetute, continuative, di modo che fino a che il ferro si batte finché è caldo. Poi ci sono, questi sconosciuti, i piani di protezione civile e i piani di emergenza. Allora, voi dovete considerare che i piani di protezione civile dell'82% dei comuni italiani sono fermi a 20 anni fa, per cui non sono assolutamente adeguati e aggiornati con la crisi climatica e con l'estremizzazione climatica che stiamo vivendo. Per cui è compito delle istituzioni locali, dei governi locali, aggiornare questi piani, fare dei piani di emergenza strettamente collegati ai piani di adattamento e avvertire la popolazione di quali sono le azioni perché ha un certo tipo di allarme o allerta corrisponda a un'azione specifica da parte della popolazione. È qui che noi possiamo battere, ma dobbiamo anche avere il piano di emergenza e il piano di protezione civile. A Ischia, ragazzi, sei comuni? Nessuno ha il piano di protezione civile, nessuno ha il piano regolatore. E poi dici il geologo va in crisi, va in crisi sì, perché poi come si fa a dire che quella casa lì ci poteva stare, lì non ci poteva stare, quella è abusiva, quella non è abusiva. Allora, il piano di adattamento in Senigallia l'ho fatto io, io ho scritto 26 azioni, adesso io mi espongo, ne sono state perseguite due. Quindi le azioni vengono fatte per essere perseguite. Nel momento in cui io redigo il piano di adattamento e passa in consiglio comunale e viene firmato in consiglio comunale, poi il comune deve fare le azioni. No, non dico questo. Ci sono problemi burocratici, amministrativi, vedi il discorso delle vasche di laminazione del Misa, tutto quello che volete. Però c'è modo di approntare il problema e modo di approntarlo. Ci sono i comuni come Pesaro che sono stati molto più lungimiranti e molto più validi nell'affrontare. Altri comuni per cui io ho lavorato sempre alla Regione Marche sono all'anno zero. Come per dire ah ma io ho il piano di adattamento, l'Europa mi deve vedere come un comune virtuoso nel patto dei sindaci. No, le cose bisogna farle. Perché altrimenti e almeno non ci sono soldi per fare le opere hard che comunque sono state previste perché firmate dal sindaco da chi per lui, allora cominciamo almeno con la divulgazione, con l'educazione, con queste giornate. È un po' questo che, tornando al discorso del Presidente, il Consorzio ha intenzione di fare almeno questo e formare soprattutto, torno alla prima domanda, se ci fosse stato un metro reporter lì a Ponte Dazzo, a Ponte Riccioli, Ponte Riccioli, scusate l'errore, probabilmente un'ora prima dell'arrivo della Pina a Cantiano si sarebbe potuto sapere attraverso poi delle app, perché poi lì questo fa parte del piano di emergenza, delle azioni, piano di protezione civile e piano di emergenza. Probabilmente si sarebbero potuti salvare tanti beni immobili e nel caso del MISA tante vite umane, perché a un certo punto poi sta al cittadino poi essere educato ed essere strettamente rigido nel seguire queste azioni, perché poi, se dopo, voglio dire, il cittadino non ha, non ha, voglio dire, non capisce quanto è importante la sua vita, poi veramente diventa un problema suo, perché se è in democrazia ognuno fa quello che vuole. Però si può andare all'ultima slide e poi chiudiamo, andiamo avanti, vedete che vi ho preparato, ecco qua, allora, ecco qua, lasciamo stare questa, mi puoi andare avanti, allora, nel decreto legislativo numero 1 del 2018, articolo 31, dice che il Servizio Nazionale di Protezione Civile propone, promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza e la comunità, cioè la capacità, altro keyword, ultimamente, la resilienza, cos'è? È la capacità di un sistema e quindi anche della popolazione di far fronte all'emergenza, in questo caso, climatico. Favorendo la partecipazione dei cittadini che sono visti, che dovrebbero essere visti come stakeholder, quindi come portatori di idee, ok? Mediante formazione di natura professionale alla pianificazione di protezione civile come disciplina dall'articolo 18, le componenti del Servizio Nazionale nell'ambito delle rispettive attribuzioni forniscono ai cittadini informazioni su scenari di rischio, organizzazioni di servizi di protezione civile, anche al fine di consentire di adottare misure di autoprotezioni nella situazione di emergenza. Ricordiamoci, il capo della protezione civile a livello locale è il sindaco. Quindi, l'articolo dice l'articolo 31 del DGS 2018 di fare questo. Quindi, anche però, alla fine, estrema razio, il Comune fa tutto quello che deve fare e io mi trovo successiva, io mi trovo in condizioni del genere in cui si accende, c'è l'azione di adattamento, si accende il semaforo e suona per 5 minuti e la persona mi vuole passare, allora se si vuole suicidare poi, questo è un problema suo. Quindi, è vero che ci sono delle mancanze, delle lacune che lentamente si stanno colmando, in primis, appunto, queste informazioni che stiamo cercando di darvi, ma è anche vero che puntualmente ogni volta che c'è un allagamento in sottopasso, c'è la persona che rimane sotto. Quindi allora, questo significa proprio o non starci con la testa, scusatemi il termine, oppure fregarsene di quello che poi con sforzo noi cerchiamo di fare ogni giorno. Io direi che, prego, vuoi intervenire un attimo? Sì! Volevo far concludere col dire due cose preziosissime al professor Gennari che insegna queste tematiche all'Università di Urbino. Prego, Enrico. Allora, innanzitutto un applausolo. Sì? Sì, sì, no, ma non mi dilungo, ci conosciamo da vecchia data con Netti. Innanzitutto ciao, un applausolo. Sono venuto in questa sala per ascoltare ancora una volta l'amico Massimiliano, no? E vedo una sala piena di ragazzi che, voglio dire, ancora una volta l'avvocato Netti davvero ha centrato l'obiettivo. faccio una domanda di quanti presenti stanno, risiedono hanno una casa vicino a un fiume non solo del Foglia ma a un fosso minore, a un fiumiciattolo. quanti? Su, su. Ecco. Allora, da, no, allora, il Meteoreporter Netti si sposa con un'operazione che io ne ho parlato con il nostro Presidente Antonello, ma forse anche a tema, sul tema della scuola presidio idraulico. mai letto nel pensiero, cioè il concetto che la scuola deve diventare uno strumento di autoprotezione e di crescita della, diciamo, della condivisione, della cura del bene comune di questo nostro creato, è un elemento imprescindibile e quello che hai detto è che questo lo possiamo fare oggi perché tutto il resto, riadeguare il PAI, fare il censimento e l'identificazione dei perimetri nelle aree del reticolo minore, cioè nei fossi, fare le opere non strutturali e quelle strutturali ci vogliono mesi, anni, se, invece, la divulgazione, l'informazione, la presa di coscienza, la percezione di dover familiarizzarli con il rischio è da fare subito. Altra cosa, qualcuno, l'insegnante ha detto nessuno conosce il COC, ma è gravissimo, cioè tutti dobbiamo sapere che quasi sono gli elementi di presidio per la nostra sicurezza. La domanda che ho fatto di chi sta vicino a un fiume e chiudo, Netti, da un approfondimento di studio che abbiamo già presentato sulla nostra rivista che uscirà a marzo, abbiamo messo, approvato a mappare i decessi, gli 12 decessi che sono successi sul Misa, bene, quasi tutti, cioè 10, sono sul reticolo minore, Netti, cioè di gente vicina alla interferenza tra il corso d'acqua e la strada, il ponte, la casa, quindi è immediato che per riuscire a dare una risposta dobbiamo lavorare in questo contesto e se Pesaro davvero vuole essere una città della cultura nel 2024, Netti, presentiamo un progetto in cui Pesaro, città della cultura, cultura attraverso la cultura della sicurezza che passa attraverso questo genere di operazioni. Grazie. Siamo arrivati alla fine, vi debbo ringraziare, debbo ringraziare innanzitutto gli studenti perché, e fatevi di nuovo un applauso perché siete stati bravissimi, bravissimi, e io suggerirei ai professori di darvi solo per questa partecipazione mezzo voto se non un voto in più in pagella. Poi questo evento che è riuscito grazie a voi deve dei ringraziamenti ai vostri insegnanti che hanno creduto in questa partecipazione. Non ultimo debbo portare qui sul palco Cristiana Emanuela Filippo e non ultima Francesca che hanno dato vita a questo evento e sicuramente per ultimo ma primo perché viene proprio per ultimo il professor Massimiliano Fazzini a presto e buon lavoro ragazzi noi cercheremo di crearvi un futuro migliore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti